La risposta dell'ICT Made in Italy, questo è il tema al centro del semestre di presidenza ItalTel all'interno del Technology Innovation Program 2013 promosso da Consorzio Elis. Alfonso Fuggetta, CEO di Cefriel, a cui chiediamo come rilanciare l'ICT Made in Italy per competere nel mercato digitale globale? Certamente la risposta deve essere articolata, però c'è qualche filo conduttore, ci sono vari temi che si possono promuovere e spingere. Da un certo punto di vista oggi abbiamo parlato molto spesso di start-up e quindi c'è tutto il tema delle nuove imprese che possono andare a riempire dei settori di nicchia o dei settori nuovi che emergono sul mercato. Non si capisce perché devono essere per forza start-up americane o asiatiche a inventare cose nuove e nuovi prodotti, nuovi servizi. Secondo tema, secondo me, molto importante è che il mercato italiano, il mercato dell'ICT italiano è catalizzato da un fattore di debolezza, cioè il fatto che abbiamo delle imprese utenti molto piccole, frastagliate, che può essere però anche un fattore di competitività. Cioè sono imprese che hanno delle caratteristiche molto dinamiche, innovative, esse stesse operano spesso sui mercati internazionali, hanno dei bisogni applicativi nuovi che richiedono per esempio anche nuove configurazioni di prodotto, nuovi tipi di servizi. Questo può essere un modo per le aziende italiane di ICT di costruire una nuova offerta, nuovi prodotti, nuovi applicativi che da un lato soddisfano le aziende italiane che vanno all'estero e dall'altro possono andare anche a cogliere i bisogni di aziende simili, delle stesse dimensioni, con le stesse caratteristiche a livello internazionale. Questo potrebbe essere un modo per differenziare l'ICT italiano rispetto all'ICT classico, delle grandi multinazionali o comunque delle imprese del mondo anglosassone e asiatico anche. All'interno del Technology Innovation Program promosso da ELIS, qual è il contributo scientifico che dà a Cefriel? Ma quello che a noi piace fare, io uso una piccola frase che mi piace ripetere, noi cerchiamo di fare quello che insegniamo, raccontiamo e raccontiamo quello che facciamo. Quindi in questi percorsi che sono in realtà a metà tra il workshop, lo scambio di idee, la condivisione, la formazione e anche l'elaborazione di nuove idee, è un po' un give and take, come dicono gli americani. Da un certo punto di vista si condividono esperienze e quindi si trasmette un po' di conoscenza, magari basata sui nostri progetti, sulle nostre esperienze, su quello che viviamo quotidianamente. D'altro lato in realtà per noi è anche un modo per acquisire informazioni, fare cross fertilization e quindi anche creare quelle interconnessioni che aiutano a fare innovazione. Quindi è in realtà una partecipazione attiva dove si cerca di offrire ma anche si riceve tanto e credo che questo sia proprio una delle chiavi vitali per favorire l'innovazione. Per noi è una cosa certamente molto molto utile. Bene, grazie mille Alfonso Fulgetta. Grazie a voi.